Mamma mia Mi immagini dove si stanno andando, che fai? C'è, no, prima c'era la rete, la terra, non c'è più niente Poi a un certo punto, no, non c'è più niente Eh, a un certo punto c'erano i sei ricorsi Un po' certo Che è un tipo di paludite Un po' certo